Ora il New Space Economy European Expo Forum è ottenuto ufficiale. Grazie a tutti. Signorali e signori, benvenuti a Fiera Roma. È una grande soddisfazione inaugurare la prima edizione New Space Economy European Expo Forum. Il primo evento che è totalmente dedicato alla capacità economica di spazio, che è l'Italia, e Lazio, nella fronte ruota del mondo. Lo spazio rappresenta oggi per l'Italia il settore dove, più di ogni altro settore, ci dobbiamo confrontare sulla capacità di fare sistema. Fare sistema, come diceva il Ministro Fraccato, per noi è fondamentale, nel motivo per il quale sempre di più l'industria, la ricerca, la società e quindi anche gli eventi poi fieristici come quelli di oggi, congressuali, diventano fondamentali per dare una proiezione dell'Italia nel contesto internazionale sempre più centrale e di rilievo. Questa è un'iniziativa, secondo me, molto interessante perché è un'iniziativa che unisce sia l'aspetto industriale sia l'aspetto divulgativo e che secondo me colma un vulnus italiano, nel senso che noi siamo un grande paese dello spazio e però non abbiamo una fiera, un momento espositivo. 3 words new space economy. Space is, the way I see it, is the sort of a catalyst between the 2 words new and economy. Invito anche a considerare i ritorni meno quantificabili della new space economy, quindi va celebrato che essa è lo Stargate per aiutare, come veniva giustamente detto prima, la space diplomacy e quindi facilitare la cooperazione economica, la pace nelle relazioni politiche del cosmo. Questa straordinaria intuizione di portare qui a Roma una manifestazione così importante che diventerà sempre più importante, noi ne siamo convinti, nel corso dei prossimi anni. Special thanks to the Space Foundation for participating to this adventure with Fondazione Amaldi and Fiera di Roma. I sincerely hope that the success of this first initiative will be the first step of a successful long journey towards the booming future of the new space economy. Dear authorities, dear participants to the first new space economy European Expo Forum in Rome. It is for me a great pleasure to wish you success for this very important event. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.